Quello che subisci da piccolo Può segnarti tutta la vita Ferma il bullismo Chiama l'19696 o vai su azzurro.it Ok, ci abbiamo Draven Draven volato Quindi lui dice giocare Gianna Però contro Brandon non giocarei Gianna Contro Kennen non giocherei Nautilus o Blitzkamp Oddio Nautilus si, Blitzkamp di meno Potremmo comunque andare in Nautilus Nautilus di Blitzkamp Che si, non è il massimo contro Kennen E' anche vero però che Se lo grabbi e lui non riesce a oltare E' inutile Domanda, questi qui li uccidiamo A livello 1 No But super easy Two gank One gank After Two kills We run them down Vi dedico questo piccolo grab In blind Lo faccio per voi Signori incredibile Questo chest opening Urlerò un casino Ma state buoni Perché oggi Favo casino C'è un buco dopo quel mio Non credo Questa bastarda sta giocando col fuoco Ma non si brucia No Direi bene Poi io qui ci ho fatto tre cose Vado veloci Oh sta in tanto Come lo doggio E sono attaccati al muro dei picchioli Durant Drago dacci la mano Grazie Drago Ah siamo aggrati a quel punto del game Adesso ci hanno aggrato i game di prima Ragazzi Comunque non è un problema Perché adesso ricolliamo Ci facciamo E andiamo a dritti E secondo me li tiriamo proprio dritti Poi siamo molto più forti di loro Posso flashare in faccia senza problemi Il bullismo non ti rende Lo sport invece sì Non ti rende Nessun Non ti rende Mi non mi rende oh l'assist lei vi è rubata c'è la mia wave quindi tu cosa fai vai giù poi vai su muori di poison? no io muoio di talon? no non c'ho il ma non c'ho il ma cerchiamo di lavorare bene sulla visione perché purtroppo non aspetto che mi scordo spesso e potente allora qui mi mettiamo allora non è un problema meno male che c'è uno nel locket ma non ha no back solo più mamma meca per questo non muori io ho il pennello ho lottato cazzo quindi la nostra torre è il bot di Magda ti prego lui è la ult non muore più ci non c'è oddio qua perdiamo c'è il wrangler che è enorme con tutta la calma di questo muore non credo muore così muore ho il locket perché ti sei avvicinato qui c'è Talon probabilmente no e da questo è bando ma ci abbiamo che tu fai cazzo 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 ormai questi grab non ci emozionano nemmeno più con questi grab della madonna e invece sì e invece ci fanno godere come il primo cazzo 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 glitch. Questa roba vi fa sentire in colpa, ma vi fa sentire anche un po' forte. Dai, venite. Vi è c'è, vi è c'è, scemo, vi è c'è. Che c'è? No, Paolo, non lo farei mai questo grab, sarebbe davvero troppo assurdo. Paolo, ca, no, ne. Qual è il tuo segreto? Ha, un mago non svela mai più trucchi. Ce ne manca uno, uno per un assist. Need one assist. lo uccideremo male. Ho il locket. Addio, addio, amici, addio, addio, 2C. Ti prego, Geraldo, pensaci tu. Vai, King. Vai, King, un ultimo King. Ma porco due, ma lo stronzo che clicca su quella merda, non ce l'ha... Però, cazzo, siamo 15 kg a 44, tre draghi, non hanno beso una torre, sono tiltati, stanno intando. È difficile che iniziamo a sperarci adesso. Ma perro. 2-3-23, una merda. No, ci siamo ragazzi, dai. Ma voi ti fate per me? Ce lo faccio a fare questo gran master? Cioè, queste due partite ci hanno fatto male al morale, ma questa, questa ci ha fatto bene al morale, cazzo. Gli ho cagato in testa. Gli ho cagato sburati. Cos'è questa clip? Paolo, ca, no. Questa è l'incredibile, cazzo. Autoattacco sul Minion. Ma sapete perché ha autoattaccato il Minion? Qualcuno di voi sa perché ha autoattaccato il Minion. Chi lo indovina, gli regalo 83 euro e 50 centesimi. appello per il Minion. Chi lo indovina, gli regalo 85 euro. Ancima. Ma sapete perché ho scobato l'invento e l'invento. Ancima. Ma sapete perché ho scobato il Minion. Chi lo indovina e riposo? Chi lo indovina che ha autoattori, top! Grazie a tutti